Dopo l'ultimo video in cui Fedez è andato ad attaccare Anima per una sua foto in Duomo Dove fondamentalmente indossava una tuta anti-radiazioni A modi presi in giro per il coronavirus Anima sembra che aveva visto il dissing di Fedez Tanto che si è espresso nelle sue stories per rispondere, argomentare e difendersi da queste accuse Non aggiungo altro ma vi lascio alla risposta di Anima Fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate E da che parte state in questo dissing Noi ci vediamo un prossimo video in linea allo studio Ari eccomi Visto che so che ci sta qualcuno che sta parlando della mia foto in Duomo E molto probabilmente non segue le mie storie o non mi conosce bene Volevo farvi sapere che la foto non è stata fatta per ironizzare sul virus Ma per il tanto allarmismo che c'è dietro Io ho caricato in questi giorni un sacco di stories Penso che le abbiate viste Dove vi dicevo di prendere precauzioni Però di non andare neanche troppo in panico Di non chiudervi in casa Di non razziare i supermercati Di usare il vostro cervello Di non fare razzismo gratuito Insomma di non andare in confusione Di informarvi bene La foto è stata fatta semplicemente per far ridere Io conosco le persone che mi seguono E so che in un momento in cui tante persone hanno ansia Potevo strappargli un sorriso Quindi ciao